Buongiorno a tutti ragazzi qui Lori e oggi siamo suca in Black Ops 1 Stiamo vincendo E siamo già morti, fantastico Ingo abbiamo appena ucciso Qui c'è un altro nemico in attivo Aereo spia pronto Il nostro aereo spia è in volo Oh 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 grazie aereo spia pronto il nostro aereo spia è in volo aereo spia aereo spia alleato in arrivo aereo spia nemico sopra di voi almeno questa è più combattuta 9 e 7 galila o galila non so neanche come si e quanti marker ho preso cazzo aereo spia pronto aereo spia alleato in arrivo la vuoi scherzare dai mamma mia aereo spia nemico sopra di voi il nostro aereo spia è in volo aereo spia aereo spia pronto aereo spia alleato in arrivo aereo spia aereo spia alleato in arrivo grandissima agonica a trovare aereo spia disponibile aereo spia alleato in arrivo aereo spia alleato in arrivo torretta sam alleata in avvicinamento spia alleati Grazie a tutti. Aereo spia nemico in arrivo. La vittoria è vicina, non dobbiamo mollare. Aereo spia alleati in arrivo. Aereo spia pronto. Aereo spia. Aereo spia da lì per piacere. Non vuole. Oh. Così si fa. Ottimo lavoro squadra. Ciao. Scena triste d'altronde. Siamo ritornati su studio. Però il nome è... Cioè, almeno così si chiama su Black Ops 2. Stiamo vincendo. Non è che si chiama... Stato. Non mi ricordo. Firing range. Cosa simile. Se mi accavaron. Il blanco cayò. Ho avuto l'inteliziarla nel video del campo. E mi spianza. Aereo spia pronto al decollo. Il nostro aereo spia è in volo. Questo viene qua. Il blanco cayò. Posso andare là dentro, vero? Faccio giusto per far vedere come utilizzo. Aereo spia alleato in arrivo. Cobra pronto. Cobra in avvicinamento. Cobra in avvicinamento. Cosa granate anche. Che agonina. Cosa roba. Cosa roba. Cosa roba. Cosa roba. Cosa roba. Cambiando cargador. Cosa roba. Cosa roba. Cosa roba. Cosa roba. Cosa roba. Il blanco cayò. Aereo spia nemico sopra di voi. Aereo spia nemico sopra di voi. Se smettessero di camperare. Il nostro aereo è un di aiut. Cosa è questo? Lentido. Grandissimo lag eh. Grandissimo lag gioco eh. serie grazie puoi giocare così ma che problemi ha via 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 il nostro aereo spia è in volo copra disponibile copra in avvicinamento bombardamento napalm alleato in arrivo in attesa del segnale cani alleati in arrivo bella ho dimenticato che c'era anche in questo gioco in questo gioco in cioè neanche mi considero forte su sto gioco quindi veramente aereo spia alleato in arrivo continuate a combattere non possono farcela contro di noi ecco torrenta robot alleata in arrivo aereo spia nemico in arrivo aereo spia nemico in arrivo aereo spia il nemico sta disturbando i radar aereo spia aereo spia aereo spia aereo spia Il nostro contrattacco aereo spia è in volo Missione compiuta, ottimo lavoro Se questo video vi sia piaciuto Vi invito a iscrivervi, a lasciare un commento, mi piace A condividere questo video Vedete che cresciamo più in fretta e anche più velocemente Magari ci espanderemo come famiglia E niente, ci si vede al prossimo video E ciao a tutti